e adesso sulle mani, vibriamo le mani ragazzi, vibriamo le mani tutti insieme vibrate le mani, tirate le mani su, non si sente l'urlo, non si sentono i fischi, non si sente il caos, sulle mani, sulle mani, perché se volete il caos il casino, la fiesta, la però la cane, la veranda si, parranda si, parranda si, parranda si, parranda si, che me gusta la veranda, che me gusta la veranda, si, ma che me gusta la veranda, si, si, e la regasa sulle sene, va il misconceptions, parranda, su su, sulle mani, perranda, si, parranda, E' così, perci, sì che me gusta la veranda Sì, 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 sì Sì, 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 sì Vai, vai, caliente Su, 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 su La curva a destra, ragazzi, dove sta il ritmo? Che ricordo che con treno, mocecita, araba Mora A, bella A, formosa A Comunicando, piaggessi, capparola e mi dice Prendere, taxi, andare, fiesta Sì, che me gusta la veranda Sì, 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 che me gusta la veranda Sì, sì, che me gusta la veranda Sulemani No si sente l'urro del sud Italia Ay, che buona gente, mira, che buona Mira, 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 che veranda E di, ara, mira, come sei che ti gusta della vita El dinero, vos, dinero El dinero, no tengo dinero El dinero, vos, dinero El dinero, no tengo dinero Tu tienes dinero, no tengo dinero Tu tienes dinero, no tengo dinero Ragazzi, voglio vederli saltare tutti Non si sente l'urro del sud Italia Non si sente la festa No si sente caos in casino Si, che me gusta la veranda Sì, 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 che me gusta la veranda Vai, 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 vai La, vai, 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 vai Ai, che buona gente, mira, che buona E, mira, mira, mira che parranda A, o, e, di, arabi, una cosa che le piace della vita il dinerio no tengo dinerio no tengo dinerio che hai dinero no nello non devo No, 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 no. Magico questo momento ragazzi, fantastico. Io ovviamente lascio il microfono al mitico. E' stato grande? Mi fate un applauso fortissimo per Antonio D'Agosta? Oh, il microfono. Ah, ti sei messo. Vito D'Omene ragazzi, caliente l'applauso per lui che organizza queste splendide cose. Ma com'è questa storia che dal prossimo anno non ci sarà più stella del sud? Eh no, basta, basta, basta. Secondo me, guarda, io ho ascoltato il tuo lamento, il tuo... capisco che organizzare... Non è un lamento, è un dato di fatto. Sì, però, ragazzi, non è... perché se poi, secondo me, non dovresti smettere, te lo dico proprio. Bisogna solamente continuare, perché voglio dire, le cose continuano comunque... Sì, ci sono i problemi, ma tanto, se fai un'altra cosa, ci saranno problemi lo stesso. Il sud ha proprio questa caratteristica. Noi siamo felici così, perché i problemi ce li creiamo noi, in fondo non è che ci stanno. Perché, capito, cioè, tu chiami uno, per esempio, come hai fatto con me, eh, ci siamo sentiti. Poi tutte le volte, no, aspetta, mo' devo andare al mare, mo' ho trovato la ragazza, mo' devo andare a prendermi il caffè, arrivi in ritardo, tutte queste cose, questo è il sud. Beh, tu sai che noi abbiamo anche dei piccoli... Lo so che questo è il sud, e io lo voglio portare alla grande su. Adesso il mio obiettivo è quello di farlo con circuiti forse ancora più grandi. Quindi stai organizzando un'altra cosa, chiudi questo, ma apri un'altra cosa. È normale. Ah, ragazzi, applauso, Vito Diomere. È normale. Poi che punto così, la mia vita artistica. Basta, ti ho sentito un po' deciso, basta. Sempre un scemo con questa cosa. Basta, chiudo, finisco, questa è l'ultima volta. Io grazie, no, l'ultima volta, l'ultima puntata di Stella del Sud, dieci anni, poi dopo potremo fare Stella del Nord, Stella del Centro, Stella... No, sono scherzato. Ma Stella del Sud, ragazzi, il sud è caliente. Allora, bene, è finita. Ti lascio. È finita. Ragazzi, fatemi un applauso di saluto, buona fortuna a tutti. Mi rifai, non tengo dinero, a cappella. Non tengo dinero, tu tieni dinero. Ci sarebbe... Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, e in casa manana te parte la cabeza. Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, e in casa manana te parte la cabeza. A chi se baila, chi se hace fiesta, la bebida consentita dal cardiologo loco, Sangre del Toro. Ehi! Cartane, bada, pigna collada, tequila bombu, e Sangre del Toro. Ehi! Però, ragazzi, con le telecamere, deve essere caliente. Mi raccomando, tutti le mani su. A prossimo, è importante che dovete creare una camera, una sonorità, perché se lo fate senza mani. Quindi, Sangre del Toro. Ehi! Tutti insieme, pronti? Su, su, su le mani. Sangre del Toro. Ehi! Eh? Eh? Tastante, bellissima. Sangre del Toro. Ehi! Tutti a sinistra. Mi raccomando, puoi dare l'altra parte. Proviamolo tutto. Sangre del Toro. Ehi! Però, facciamo fare la giulia. Dai, signore. La giulia. Ci si alzano dal tavolo. Sa già arrabbiato, sa la piglia con me e poi dopo. Vabbè, lui. Oppure facciamo fare alle signore. Alle signore. Uno sbattimento. Sangre del Toro, carta nevata, tequila. Boom, boom, boom. Così? O così? Tu che dici? Facciamo una... Una volta... Come ci sono due? Una volta la facciamo la parte superiore e una volta la parte superiore. Posso? Posso? Un po' di che? Te l'hai capito? Allora, no. Praticamente, le donne fanno così. Eh? Lo sbattimento. Ah, l'uomo. E l'uomo? E... Vabbè. Proviamo, proviamo, proviamo. Andiamo serie. Mi raccomando alla giulia. È d'obbligo. Perché dovete sapere che questo, ragazzi, io non ve l'ho detto. Chi avrà lo sbattimento più caliente? Vito Diomede ha deciso di regalare, di nominare Miss Sbattimento della Serata. In questo Miss Sbattimento consiste che vince 19 giorni in Brasile. Quindi, ragazzi, provate un po'. Vai, pronti? Allora, le donne in piedi, questa cosa, e poi giù le donne, e sale l'uomo, vediamo che succede. Va bene? Ragazzi, ci sono le telecamere, quindi non potete rifiutarvi. Quindi, pronti? Sì. Sai? Te gusta tequila? E quale strofa dovevamo fare? E che eserci? Se non lo sai te? Te gusta tequila? Te gusta tequila? Sangre del toro? E? Carta nevada? Pignacolata? Tequila? Boom, boom, boom. Ok. Salta tequila, boom. Pronti? Allora, attenzione? Pronti? Vai. Sangre del toro? Le mani, ragazzi, tutti insieme. Le mani! Sangre del toro? E? Carta nevada? E? Pignacolata? Tequila? E? 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 Ma quella signora lì al centro? La signora? Ma io ho visto la signora là, cioè ha fatto un movimento perché mu' ammazzava una persona. La signora, l'avrà uccisa sia a destra che a sinistra. Perché complimenti per la riva. Complimenti per la riva. C'è chi c'ha. C'è chi c'ha. La signora c'ha. Va bene. Vediamo gli uomini. Sangre del toro? E? Oh. Allora, ragazzi, non ci fate fare brutta figura, eh? Sangre del toro? E? Carta nevada? Pignacolata? Tequila? Guarda lui, caliente. Bravissimi, ragazzi. Grazie, fantastico. Va bene. Buona fortuna a tutti. Antonio da Costa! Grazie, ciao Antonio. Grazie mille, grazie per questo.